Maria, va un di Bernadetta, fu scegli a cercar, con due bambinette che il gel fa tremar. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ci disponiamo a recitare il Santo Rosario pregando per noi, ma anche pregando per le tante persone che si affidano alle nostre preghiere, soprattutto per coloro che sono in un letto, perché sono ammalati, perché non possono muoversi, perché non possono partecipare alle celebrazioni in parrocchia, per tutte le persone che ci hanno chiesto di pregare per loro, perché stanno vivendo un momento di difficoltà fisica o interiore. Per tutti loro vogliamo invocare la benedizione della Vergine Maria attraverso questa nostra preghiera. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Gloriosa Mater Christi, benedicta Mater Nostra, gloriosa Mater Christi, benedicta Mater Nostra. Nel primo mistero glorioso contempliamo la resurrezione di Gesù al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Daci oggi il nostro pane e così in terra, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, che non ci dure in tentazione, ma libera sulla mare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei prevenietta tra le donne, benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.